Comunione mentale. Come nascono le associazioni come le ACLI, che è la sigla delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani? Commento. Tutto ciò che nasce nel piano fisico ha origini spirituali. Se molti individui sono accomunati da pensieri simili, vissuti emotivamente, molto probabilmente, per iniziativa di uno o di pochi, si riuniranno in un'associazione che è equivalente nel piano mentale alla comunione mentale. In ogni piano di esistenza, infatti, la legge tende prima a riunire e poi a fondere i simili.